oggi sono a pesca in laghetto con mio padre per quello che sarà probabilmente l'ultima pescata di quest'anno colgo l'occasione per dire a quelli che mi seguono che il prossimo anno riprenderò in mano il canale visto che gli ultimi mesi avevo pubblicato pochi video ricomincerò a pubblicare video in maniera costante quindi seguitemi anche su instagram e facebook dove pubblicherò le foto adesso pesco con due canna galla in mezzo al lago con la bombarda dopo non mi sposterò poi proverò a pescare a varie profondità se non mangia una galla vediamo un po' finalmente con sta canna riesco bene una o come piega la senti robustina? si sarà 3-4 volte con quella sia canna via la senti un po' di più la stai mollando te o è lei? staccando ancora te bellina questa è più grossa di quella di prima non so che c'era così tanto perché è incazzata pensa un po' questo è un po' più delvato più selvatico veramente una bella idea ma almeno sta canna piega anche con le piccole non riuscirei a malzare la costa canna non so mai se stai filmando o come non so mai se stai filmando o come si stai filmando o come si stai filmando o come si stai filmando un'altra bella misura un'altra bella idea un'altra bella idea un'altra bellaés una bella idea un'altra bella un'altra bella bella questa canna una bella canna questa quella non ha mangiato giù di sicuro fario è un po' più bella questa stiamo crescendo di taglia pian piano attenzione teniamola ecco la grossa la grossa si grossa questa come te la senti? bigona da guadino? no da guadino si però no è bella bella da quattro etti attimo magari è un affario e questo cazzo si può essere il primo mazzo attenta che sotto arriva ecco la soddisfazione lì è la strana ultima eredea dell'anno l'ultima eredea di quest'anno l'ho mangiato stranissimo sembrava che fosse un po' pesante ha mangiato sotto arriva hog via com via a via 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 Grazie a tutti.